Su 135 comuni abruzzesi di fascia 4, ossia piccoli comuni al di sotto di 3.000 abitanti, 111 sono senza segretari comunali. Una figura centrale, quella del segretario comunale, garanzia di tutela legale per i sindaci e per le amministrazioni. Eppure i comuni languono, i sindaci si inventano mille peripezie per avere un segretario, senza il quale non può tenersi un consiglio comunale, non si firmano atti delibere di giunta, non si bandiscono gare d'appalto per le opere pubbliche, non si gestiscono denunce contenziosi. Una situazione sasperata nei comuni del cratere sismico, dove agli atti ordinari si sovrappongono quelli straordinari legati alla ricostruzione. Una battaglia che i sindaci dell'Alta Valle dell'Aterno hanno cominciato a fare da soli. Questa mattina un incontro con il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi e con il vice segretario della Camera dei deputati Fabio Rampelli in tour elettorale, proprio nei comuni dell'Alta Valle dell'Aterno. Stiamo arrivando quasi allo stallo e questo non lo possiamo permettere, perché comunque i comuni hanno una funzione vitale nei nostri piccoli centri. Ad aggravare la situazione è anche la quota 100, che manderà in pensione altri segretari, quindi di prospettiva il problema si aggraverà. Il prefetto si è fatto carico di farsi portavoce di questa problematica insieme a noi. E ribadiremo anche noi, visto che incontriamo domani il sottosegretario Crimi, che abbiamo questa urgenza, questa esigenza, che rischia veramente di bloccare tutta l'attività amministrativa dei piccoli comuni. Serve un intervento del governo che deve modificare prima di tutto il meccanismo concorzuale che porta a individuare i segretari comunali. Il concorso è stato rifatto, i concorsi dovrebbero essere in una forma anche più veloce della realizzazione di questa esigenza che tutti i piccoli comuni stiamo subendo. Ci sono lungaggini burocratiche, il concorso è stato fatto, ma queste figure che vinceranno il concorso non saranno disponibili prima di un anno, un anno e mezzo. Bisogna trovare una soluzione, una soluzione che può essere trovata attraverso il Ministero degli Interni, con un provvedimento ad hoc nell'individuare figure con un decreto che possano sopperire a queste esigenze. Le difficoltà sono tantissime, noi partiamo dal più semplice atto che devo fare, non ho il supporto legale, non so se ho fatto bene o fatto male, poi io non sono a conoscenza esattamente di tutte le procedure, quindi questa è una cosa che personalmente mi tocca molto. Però il problema del segretario va anche oltre questo, perché ci sono delle attività, delle cose che deve proprio fare il segretario con i dirigenti, io non ho dirigenti, ma comunque con i responsabili dei vari uffici, cose che nel nostro comune non avvengono, non possono essere fatte tutte.